insieme al mio cane un meticcio di nome nica faccio parte dell'unità cinofila dell'arma dei carabinieri sono volontaria da circa un anno e mezzo e insieme agli altri sei componenti del gruppo organizziamo diverse attività due o tre giorni a settimana ci troviamo al campo di addestramento dove prepariamo i nostri cani su svariate discipline come l'agility l'obbedienza la ricerca sostanze persone ci dedichiamo maggiormente alla pet therapy e organizziamo incontri periodici in centri diurni per anziani e per disabili la pet therapy è un metodo sempre più valutato e utilizzato a livello medico per migliorare la salute e l'umore dei pazienti sembra impossibile ma anche noi solle poche sedute abbiamo visto i cambiamenti evidenti nei pazienti quindi oltre che a divertirci con i nostri cani siamo riusciti a far del bene alle persone meno fortunate organizziamo spesso delle dimostrazioni e lezioni teoriche nelle scuole infatti secondo me è molto importante sensibilizzare i bambini e ragazzi al rispetto degli animali perché questa è anche la base per il rispetto reciproco tra le persone questi incontri sono per noi delle occasioni per fare abituare per far abituare i nostri cani a lavorare anche in mezzo alla confusione e in condizioni sfavorevoli infatti siamo sempre operativi in contesti pieni di distrazioni e soprattutto la cosa più difficile è riuscire a mantenere la concentrazione del cane collaboriamo anche con altri gruppi cinofili di altre città e spesso veniamo chiamati dalle forze dell'ordine per servizi nei luoghi pubblici come la stazione e centri commerciali spero che in un futuro questa passione possa diventare un lavoro ma per entrare a far parte di questo mondo ci vuole tantissima esperienza consiglio a tutti quelli che hanno un cane di lavorare con lui e prendere parte a corsi di addestramento perché si migliora veramente il rapporto col cane e l'importante comunque dedicare molto tempo e attenzioni e li vedrete in passeggiata con lo sguardo fisso su di voi pronti ad accontentarvi su tutto perché si sa l'amore che dona un cane è sempre incondizionato con la mia inizialmente ho avuto un po di difficoltà sull'addestramento perché sicuramente da piccola ha subito dei traumi in canile ma con tanta pazienza e delizione sono riuscita a ottenere dei risultati che mi rendono orgogliosa un'ultima cosa per quelli interessati che ci vogliono seguire possono visualizzare la pagina facebook unità cinofila unac unione nazionale arma carabinieri un'unica Grazie.